Quando e come nacque il nazionalismo in Polonia? Per rispondere a questa domanda, nel prossimo appuntamento dei giovedì del Parri incontreremo Daniele Stasi, che nel suo ultimo volume, Polonia restituta, nazionalismo e riconquista della sovranità polacca, si è occupato proprio di questo tema. Daniele Stasi è professore ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università di Foggia. Nel suo ultimo volume ricostruisce il contesto storico, politico e sociale, in cui all'inizio del Novecento si sviluppò il nazionalismo polacco, indagando le due correnti principali che si svilupparono all'interno di quest'ultimo, il nazionalismo civico rappresentato da Josef Pilsudski e il nazionalismo etnico rappresentato da Roman Domoschi. Nell'opera l'autore indaga anche il ruolo svolto da Pilsudski durante la Seconda Repubblica e lo sbocco sciovinista della seconda metà degli anni venti. L'opera è una lettura importante per comprendere non solo le diverse accezioni del nazionalismo polacco, ma anche alcune delle cause che stanno alla base del conflitto ancora in corso tra Russia e Ucrania. A dialogare con l'autore abbiamo invitato Alberto Martinelli, professore emerito di scienza politica e sociologia all'Università degli Studi di Milano. A coordinare invece sarà Antonella Salomoni, professore ordinario di storia contemporanea all'Università della Calabria. L'appuntamento è giovedì 22 settembre alle ore 18, in diretta sulla pagina Facebook dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Ciao! 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 Grazie a tutti